Cosa? Io non porto un episodio della vanilla dal 21 novembre? Dobbiamo rimediare. Amici, bentornati nella vanilla, sì con le shaders perché è molto più carina, dopo quasi un mese... What? Cioè lasciam perdere il fatto come la stavo dimenticando... E partiamo subendo danno... E lanciando via la sp... Niente, partiamo malissimo... Partiamo malissimo... Siamo tornati sulla vanilla, ma do! Ma eppure do! Oh, vabbè, in questo episodio, incredibilmente, dopo un mese, e siamo ancora in una zona un po'... Mi volevo costruire una casa... Basta, mi sono stufato di subire danno, ma do! Bro! A few moments later... Dicevo, prima che lo zombie ci attaccasse malamente, che devo andare in una sorta di prateria, almeno così mi avete detto, e iniziare finalmente a costruirmi la prima casettina, perché sinceramente, dormire in mezzo al fango e alla morte... Anche no. Perciò mi faccio un gi... What?! Se ci fai un creeper di giorno... Mi faccio un girettino di zona, mi è pure morta la pala, ma do quanta roba a ciò... E poi andiamo a costruire... E poi ci andiamo finalmente a costruire la casettina... Sperando di trovare... Che bello, comunque, con le shaders... Ma do, che bello! Wow, autociclo per le shaders? Costruiamo la casa! Amici, dopo un lungo cammino, 10 minuti come minimo, sono finito in sta zona molto carina, dai, cioè, ammettiamola, pesci che saltano, maiali che muoiono, è carina come zona, perciò... No, è nato un piccolo maialino, sei il mio erede, ti terrò in vita per sempre, o lo uccido adesso? No, ti terrò in vita per sempre. Quindi, dato che questa zona mi piace, ci ho già in mente come modificarla, però, oh mio Dio, queste shader, quando vedono dell'erba, impazziscono, ma vabbè, mi faccio esattamente qua in mezzo, dove sorgerà il nostro villaggio, una bella casettina. È bella come zona, più che altro perché... È pieno di animali, c'è l'acqua, c'è la sabbia, letteralmente, a 10 blocchi di distanza, e ci sono pure un botto di zone di terra. Caverne, un botto di roba, quindi... Facciamo la casa. Ora, non so perché sto distruggendo... Ma che cacchio sto facendo? Devo fare la casa. Ovviamente la casa iniziale sarà fatta di fango, fallimento, e perché no? Un po' di merda. Comunque, facciamo un bel 10x10 di quello bello cattivo sgravato, e buttiamo via... Cosa buttiamo via? No! Questa, l'andesite, ci prendiamo questi. Che poi, in un prossimo episodio, magari, magari, ci facciamo pure la farm. Che fai, tene privi della farm. Dai, sulla vanilla avevo un botto di roba. Vabbè, comunque ho farmato anche un po' di legno, e 10x10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e dopo il 9 viene il 16. 10. È un po' piccolina, ma vabbè, dai, ce la teniamo così, è la prima casa, giusto per sopravvivere. Quindi, volevo farla di altezza 3 blocchi. Boh, ho 3 o 4 blocchi, ora la faccio, poi vi faccio vedere, e poi, andiamo a dare un'esploratina veloce alla zona. Tra l'altro, fatemi sapere nei commenti la vostra, la vostra idea su cosa fare. C'ho un altro stack, sì, esatto. Così, nei prossimi episodi, come nella vecchia serie, così almeno mi scende la lacrimuccia per la vecchia serie, metterò i vostri commenti, in evidenza, almeno quelli che andrò a fare nell'episodio precedente parkour, intendevo successivo. E quindi, niente, si sta facendo anche una certa, molto carino il cielo, però finisco di fare, e poi vi dico. Allora, vi ho fatto un taglio gigante, però queste sono le novità. Ho messo delle torcettine, così, debotto senza senso, vetro, altro vetro, e questo lo devo ancora spostare, perché ho cotto la sabbia, vorrei finire di cuocerla. Perfetto, così almeno lo rompiamo in diretta. Tec, thank you, thank you, e lo spostiamo. Ah, ne avevo due di fornare, ah, ne avevo fatto un altro in più, ok. E letto qui, cosettino qui, casettina molto base, ma molto carina, però molto base base, cioè nel senso, morirà subito come casettina. Ora che abbiamo fatto il tutto, abbiamo finito praticamente tutti i materiali della storia, non mi sono fatto la cesta, dovrei farmi una cesta in realtà, sì, decisamente. Mi prendo dell'altro legno e facciamo una mini esplorazione, ma proprio mini mini, giusto per andare avanti quei tre minuti nell'episodio, e nel mentre, che mi scrivete voi il commento su cosa fare in un prossimo episodio, anche se dovrei fare le robe base, in realtà. Guarda lì che carino, oddio, quella cupolettina è un po' cringe, però mi piace, non so perché, ma mi piace, saranno le shaders, però carino. Voglio addomestichare anche quei cavalli, ma anyway, ce ne possiamo andare in caverna, vediamo cosa c'è qua sotto. assolutamente niente, ok, allora mi faccio una cesta, lascio giù le robe, poi andiamo in caverna. Guarda che bello il sole storto e quadrato, cioè proprio uguale, ma bravo Minecraft, bravo. Ah, è vero che c'ho Frost Walker, ne, 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 come Gesù. Ma quanto è bello farlo diventare di ghiaccio. Ah, e si rompe pure. Figo, no, che figo, che figo. Eeeh, eeeh, stai buono lì, ma non, c'è il tempo di dire, ho trovato una caverna in parte a casa, e niente. Allora, dicevo, ho trovato una caverna in parte a casa, letteralmente sotto casa. Ora, a parte quello zombie che mi vuole raidare pesantemente il collo con una testata, ok. No, eh sì, c'era il fratellino. Ah, fratellino, eeeh, stai buono. Perfetto. Dicevo, le torce sca... Oh! Ah, c'è, no, c'ho uno spawner in parte a casa. Stai buono, picciniacolo. Che bene, ho trovato uno spawner in parte a casa, ma signori di YouTube, che chiulo. Se morissero sarebbe anche più bello. Allora, fatemi mettere 735 torce, ok, e fatemi vedere... Uh, dai, buono, che cos'è? Sì, non lo userò mai, però carino. Allora, mi prendo tutto, il music disc, che non fa schifo. Oh, l'armatura del cavallo molto bene, sia di diamante che di iron. Perfetto. E già che ci siamo, ci prendiamo pure le casse, perché siamo poveri. Quindi, c'è uno spawner, me lo devo assolutamente ricordare, nel mentre mi... Cosa? Nel mentre mi prendo dell'altro ferro, che vedo che ce n'è una sbrega. Tra l'altro, fatemi sapere se con queste shaders vi può piacere, altrimenti volendo, ne posso scaricare altre che magari voi conoscete meglio di me, di sicuro. Quindi, questo fatto, questo fatto, mi serve però del carbone, perché altrimenti non ci usciamo vivi, dato che non ci vedo niente. Doppio scheletro, mi butto? Aspetta, fatemi mangiucchiare un attimo, che c'ho una certa famina. Recuperiamo tutta la cosa... Sì, sto arrivando, scheletri, cioè non pensiate che ora non arrivi. Oh, c'è pure uno sotto. Sotto. Ma di solito, mica si sparano anche a vicenda a volte, gli scheletri. E inizzo... Ma do quanti? Ma magari c'è uno spawner di scheletri. Se abbiamo trovato lo spawner di scheletri, è jackpot, io ve lo dico. Vedi che si sono sparati a vicenda, ma do. La rivolta degli scheletri... No, eh sì, sta buono. Un colpo e scappo. Un colpo e scappo. Sotta, un colpo e scappa. Fa il viglia... No, ho preso il pipistrello, dai, si è sacrificato per lo scheletro. A pipistrello, muori. Perfetto. Arrivo, arrivo biatch, arrivo biatch, cosa credevi? Cosa credevi? Ma secondo me c'ho uno spawner... Guarda lo scheletro che mi porta allo spawner. Vai, portami allo spawner. No, no. No, ecco, mancavi solo te alla festa. Cioè, non ti vuole invitare neanche quelli della tua spesa... Cioè, a creeper. No, dai, esplodi. Madò, che buio senza... Madò. Cioè, ora, già io ci vedo poco... Ma porca, ma porca. Già io ci vedo poco su YouTube, secondo me voi ci vedete la metà, tipo. Sì, lo so che ci vedo poco perché sono mezzo cecato io. Ok, quelli sono dettagli, però magari anche per le... No, non è per le... Ok, non è per le shaders. Allora, vediamo se troviamo qualcos'altro. Madò, quanto si espande? Cheat. Quanto si espande cheat? Uh, e invece? No, e invece no. Oh, per una notizia buona ce ne sono sette cattive. Una buona, sette cattive. Minecraft, che livello siamo? 40. Male, 40 male. Però, dato che abbiamo trovato lo spawner, io direi, ci prendiamo questi tre pezzettini di ferro perché, boh, non fanno mai schifo, e mi scrivete, oltre a cosa fare, le robe normali, come utilizzare al meglio questo spawner, perché so che si può fare a modi, si continua a far spawnare gli zombie e guadagni esperienza, vero, però, boh, non lo so, magari si può fare qualcosa di più interessante. Quindi, io direi che, oddio, potrei tornarmela a casa, non voglio concludere l'episodio, no, non voglio concludere l'episodio in miniera. Usciamo da questo principio di miniera, sempre che ritrovi la strada. Uh, l'ho trovata la strada, sì, strada, ah, 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 ok. Oh, è proprio davanti, oh, davanti alla porta proprio, che bene, che bene. Quindi, io direi che me ne vado in casettina, mi chiudo dentro, piango nell'angolino perché proprio ho visto fin troppi zombie, salviamo senza vita, ma vabbè, e usciamo. Vi ringrazio per la visione dopo un mese, ok, inspiegabilmente, di non vanilla, fatemi sapere tutte le cose, bla bla bla, e come sempre vi do appuntamento domani, allo solito ore, ovvero le sette e un quarto, con un nuovo video. Ciao!